E' in quei dieci centimetri davanti alla faccia! Ma io non posso obbligarvi a lottare! Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi! Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi! Che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento, voi farete lo stesso per lui! Questo è essere una squadra, signori miei! Perciò o noi risorgiamo adesso, come collettivo, o saremo annientati individualmente! E' il football ragazzi! E' tutto qui! Allora, che cosa volete fare? Allora, che cosa volete fare? Quello! Che cosa volete fare? Allora, che cosa volete fare? Allora, che cosa volete fare? Allora, che cosa secondo velo? E è diff dirve la microscope comXip tra i vivTION i vivießusi, Altra pausa comXipuri, aspettiamся ed correspondingi luadrinso, che comunque resta corso! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.